Il Sud è un capitale ancora in larga parte inespresso di cui l'Italia non può più fare a meno nell'auditorium del Museo Castro Mediano di Lecce. Questa mattina se ne è parlato partendo dal libro del Presidente di Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo, intitolato appunto Sud, il capitale che serve. Tra gli interlocutori anche Luca Bianchi, direttore generale di Svimez, che ha sottolineato la necessità di ridurre il divario tra Nord e Sud. Sentiamo Bianchi. Per ridurre i divari anche di sviluppo tra queste due aree non si può che partire dai servizi sociali, quelli che io chiamo i divari di cittadinanza. Non è più accettabile in questo Paese che l'offerta dei servizi dipende dal luogo in cui uno nasce.